La banca è nata in Toscana. Il nome banca fu creato dai banchieri ebrei a Firenze all'epoca del Rinascimento, disegnando il tavolo dove venivano scambiate le monete. La banca Monte dei Paschi di Siena, nata nel 1472 sotto forma di Monte di Pietà, apparteneva alle classi più fortunate della popolazione della città ed è la più antica banca in funzione al mondo.